La relazione tra l'utilizzo di dispositivi a tabacco riscaldato e la salute orale. Si è parlato anche di questo durante il XXIII Congresso Nazionale di Cenacolo Odonto Stomatologico Italiano, Associazione Italiana di Odontoiatria Generale, Perutosi a Bologna e dedicato quest'anno a Odontoiatria e Medicina, Ricerca e Pratica Clinica. Il Vice Presidente di COI, IOG, Dottor Giampaolo Avanzini, è entrato nel merito della questione. Il fumo, oltre che per il corpo umano, si sa benissimo che è la prima causa di morte, è letale per la bocca, nel senso che produce decolorazione e soprattutto surriscaldamento. Abolendo l'elemento della combustione, insomma, in base alle evidenze presentate a Bologna, si riscontra un miglioramento complessivo della salute della bocca e non solo a livello clinico. Tra i relatori, il biologo Filippo Zanetti, che ha presentato uno studio sui nuovi dispositivi che non bruciano il tabacco rispetto alle sigarette tradizionali. Oggi abbiamo presentato i nostri risultati sugli studi di laboratorio sulla salute orale. Abbiamo utilizzato delle cellule umane per verificare gli effetti di questi nuovi prodotti riscaldamento del tabacco in confronto agli effetti della sigaretta tradizionale. Abbiamo potuto osservare che c'è una diminuzione del danno, sia a livello di tossicità, sia a livello di infiammazione rispetto alla sigaretta tradizionale. I nostri studi confermano che anche a livello estetico, sulle discromie e sulla colorazione dei denti, abbiamo ottenuto dei risultati molto incoraggianti. Infatti, sia i prodotti al riscaldamento del tabacco, sia il vapore di sigarette elettroniche, producono una minore colorazione dei denti rispetto al fumo di sigaretta. Conclusioni che vengono condivise anche dall'organizzazione del congresso. L'uso di strumenti alternativi all'uso della sigaretta, che non provocano calore, e quindi che non bruciano e non decolorino, secondo noi è sicuramente positivo.